Di nuovo in piazza gli operatori e le operatrici della sanità privata. Quest'oggi si sono riuniti con le bandiere dei sindacati davanti la casa di cura Villa Serena a Città Sant'Angelo. La titolare della clinica, Concetta Petruzzi infatti, è la presidentessa dell'Aiop Abruzzo, l'associazione dell'ospedalità privata. Villa Serena oggi è il punto di riferimento dell'Aiop Abruzzo, per cui noi abbiamo inteso manifestare di fronte a questa struttura e non ad altre, perché rappresenta quella controparte che nega il contratto ai lavoratori della sanità privata in Abruzzo. Per noi questa è la parte più importante. Da dire che rifiutandosi di firmare un contratto discusso e le cui posizioni era state accettate da tutte le parti al tavolo, e il 30 di luglio ritirarsi ha creato ulteriore astio dei lavoratori nei confronti di questi signori. Ed è contro l'Aiop e l'ARIS, l'associazione religiosa degli istituti sociosanitari, che i sindacati puntano il dito. Dopo 14 anni senza il rinnovo dei contratti e un lunghissimo periodo di trattativa, i magnati della sanità privata si sono rifiutati di firmare, pretendendo che a pagare siano le regioni, ovvero il pubblico. E' questo il casus belli dell'ennesima mobilitazione nazionale. Il contratto è stato fisicamente sottoscritto nella forma dell'intesa. Quindi il contratto prevede la parificazione, sia dal punto di vista salariale, che dal punto di vista dei diritti dei lavoratori, la parificazione con le professioni sanitarie del pubblico impiego. Pertanto dopo 14 anni di vacanza del contratto, dopo 3 anni di trattative serrate, dopo più interventi da parte del Presidente della Conferenza Stato-Regioni, nonché dal Ministro della Salute, che hanno dato certezze alla parte datoriale per il proseguo della sottoscrizione del contratto, noi oggi siamo indignati e pertanto in tutta Italia 100.000 lavoratori della sanità privata protestano perché richiedono a gran voce dignità dal punto di vista lavorativo. Insomma, l'accordo era stato raggiunto, ma all'ultimo momento i grossi imprenditori si sono tirati indietro, mentre coloro che fino a qualche mese fa erano chiamati eroi o angeli per il fatto di svolgere la propria professione durante la pandemia, si ritrovano ora in mano un pugno di mosche. Non si era mai visto che un datore di lavoro si trottasse a un impegno sottoscritto con un'intesa, con le parti sindacali. I lavoratori, le lavoratrici della sanità privata sono stufe di avere a che fare con un'imprenditoria che prende soltanto. Ricordiamo che stiamo parlando di sanità pubblica, sanità privata accreditata. Queste lavoratrici e questi lavoratori garantiscono la sanità e la cura dei cittadini della nostra regione, ma di tutta Italia. Quindi noi pensiamo che se le associazioni imprenditoriali, IOP e ARIS, non ripensano a questo atteggiamento, non saremo disponibili a concedere anche un che andiamo avanti nella rivendicazione di giusto salario e giusto diritti. Non è sopportabile per queste persone vedersi trattate in questa maniera.